è un dato acclarato che esiste un dada prima di dada esiste sia nelle intenzioni di rottura di tanti artisti già prima del 1916 sia nella sperimentazione nelle opere vere e proprie di alcuni di questi artisti Duchamp fu un antesignano ad esempio dei modi del gruppo già negli anni 10 e il ruolo della mostra new yorkese all'armory show poi andrà analizzato nel dettaglio con attenzione per cogliere gli spunti di un dada americano che era già pronto a esplodere nel 1913 quindi con tre anni di anticipo rispetto alla formazione del gruppo di Zurigo anche proprio sull'onda dello studio delle altre avanguardie e mostra all'armory show lo stesso poi si potrebbe affermare analizzando il ruolo di altri personaggi tra i quali fondamentali Hugo Ball e Emmy Hennings già prima dell'intervento di Tristan Zara, di Hans Harp, di Marcel Ianco e degli altri del nucleo storico diciamo dei fondatori di dada a Zurigo però è indubbio che il genio di Zara è un genio fondamentale è un nucleo fondamentale perché valse a organizzare ciò che appariva inorganizzabile a costruire intorno al nome dada una serie di azioni che ne avrebbero caratterizzato l'esistenza un'esistenza poi abbiamo visto anche abbastanza breve perché si va insomma dal 1916 per qualcuno dal 13 perché negli Stati Uniti già esisteva qualcosa di simile a dada anche se non col nome di dada fino più o meno al 19, 20, 21, 22 al secondo delle opinioni dei vari critici c'è anche chi sostenne come per esempio lo scrittore André Gide in un intervento sulla nouvelle revue française che proprio nel nome dada si esaurisce l'essenza stessa di dada a suo avviso ed uso proprio le parole di André Gide il giorno in cui venne trovato questo vocabolo non restò più nulla da fare certo si ebbe ancora qualche sforzo degno di considerazione ma niente sarebbe più riuscito ad eguagliare l'ineffabile precisione con cui quel termine aveva raggiunto il suo scopo di vacuità sonora in questo nome scrigno secondo Gide assoluto insignificante i dadaisti avrebbero esaurito di colpo tutto ciò che avevano da dire in quanto gruppo abbiamo anche visto che la Svizzera sarà la calamita di una così variata disinvolta con genere di intellettuali la Svizzera perché era neutrale e la Svizzera dove con un'altra intuizione di Hugo Ball si decise di contrapporre ironicamente poi abbiamo già visto e vedremo ancora che ironico e comico sono due registri fondamentali per tutta la ricerca dada di contrapporre dicevamo ironicamente la razionalità e la ragione di Voltaire da cui il nome cabaret Voltaire alla follia di una guerra di cui poi da Zurigo in realtà si sentivano solo gli achi lontani e questo aspetto degli achi lontani è importante perché ci serve a dire che coloro i quali inizialmente diedero vita a dada a Zurigo ma in parte potremmo parlare anche di dada new yorkese perché succede più o meno la stessa cosa poterono ragionare in modo molto libero volando alti diciamo sui principi politici senza scendere nella meschinità dell'attività politica diretta cosa che invece risulta impossibile come si vedrà in altri contesti e soprattutto in quello berlinese del quale vogliamo parlare oggi in questa lezione ci occuperemo in particolare appunto di dada in germania george unier afferma che se dada adottò a berlino un atteggiamento più aspro più sordamente più pesantemente avvincente più brutale e spoetizzato che a Zurigo a parigi dipese più che dal carattere tedesco dal momento in cui ebbero lungo luogo le sue prime manifestazioni a berlino continuo ogni e dada scese in strada ma la rivoluzione tuonava uno corrente irresistibile lo trascinava e i pensieri di ogni individuo o l'oscura angoscia della folla lo mettevano con le spalle al muro e ancora dada sposò immediatamente l'idea della rivoluzione che altro fare che avesse ragione d'essere gli artisti avevano il dovere di mettere il loro talento al servizio di tanta speranza e di un così promettente ideale di autentico miglioramento della sorte dell'uomo c'era una bella differenza scrive per esempio Ulzenbeck tra la possibilità di sedersi tranquillamente come in Svizzera e la necessità di dormire su un vulcano come a Berlino queste parole ci chiariscono qual è la sensazione che si prova a Berlino lo stesso Ball il 15 ottobre del 1915 annotava nel suo diario che la nazione elvetica somigliava a una gabbia di uccelli circondata da leoni ruggenti la correre di profughi da ogni angolo dell'Europa dava vita a un'atmosfera di fervi di scambi culturali ma un conto era commentare gli eventi dal di fuori che è quello che succede appunto in Svizzera un conto era vivere la crisi dal di dentro cioè partecipare alla crisi perché già dal 1917 col conflitto che era in procinto di terminare e comunque era ancora in corso e ancora di più dopo la fine delle ostilità quando la diserzione non era più un problema di cui rendere conto e quindi molti dei protagonisti della stagione dada zurichese fanno ritorno nei loro paesi d'origine e diffondono questa carica eversiva delle loro idee anche con linguaggi assai diversi fra loro e diffondono queste idee come un virus dada infetta all'Europa alla ricerca di una risposta ai disastri del conflitto una risposta che noi abbiamo visto poteva essere di tipo razionale e matematico abbiamo visto per l'appunto destil ma anche il costruttivismo in parte in realtà poteva anche rifugiarsi come vedremo in un ritorno alla figurazione classica con l'abbandono degli eccessi sperimentali delle vanguardie a suo tempo parleremo del rappello all'order del ritorno all'ordine oppure come abbiamo visto in dada l'idea poteva essere quella di liberarsi nella negazione stessa del valore dell'arte in una critica serrata alla borghesia, alla società colpevole degli accadimenti che avevano sconvolto il mondo e l'arte quindi faceva parte in qualche modo, aveva la sua dose di colpe quindi l'idea di sconvolgere l'arte partendo proprio da una critica dell'arte stessa il Club Dada di Berlino quindi che viene fondato da Ulzenbeck di ritorno in patria dopo l'esperienza svizzera già nel 1917 nasce sotto gli auspici del caos politico bellico e post bellico ed è segnato dalla nascita, dalla caduta della Repubblica di Weimar dalla crisi economica tedesca, dall'inflazione, dalla disoccupazione dalle violentissime lotte sociali che dureranno almeno fino alla salita al potere di Adolf Hitler e del nazionalsocialismo nel 1933 l'azione del gruppo come abbiamo visto palesemente e direttamente schierato al fianco degli spartachisti di Karl Liebknecht e di Rosa Luxemburg che erano stati assassinati nel corso delle lotte del 1919 si traduce in tutta una serie di azioni satiriche, di azioni grottesche di manifestazioni, di serate, di pubblicazioni irriverenti e provocatorie che erano tese a bersagliare la borghesia, fondamentalmente i militari il capitalismo corrotto e tutte le storture di questa struttura sociopolitica e queste azioni in campo artistico possono esprimersi in posizioni del tutto opposte fra loro quindi noi troviamo da una parte lo sperimentalismo del fotomontaggio le forme di astrazione più spericolate ma dall'altra anche lo strumento della caricatura che invece è più comprensibile, è più tradizionale nella forma ma certo è altrettanto efficace e dirompente nel risultato rispetto alle azioni più sperimentali in tal senso non è mancato chi si è spinto a postulare l'esistenza di tanti dada quanti furono i dadaisti l'estrema diversificazione delle tattiche, degli scopi, degli orientamenti e delle scelte tra i gruppi di Zurigo, New York, Berlino, Colonia, Nover, Parigi giustifica ampiamente questa tesi perché ogni gruppo avrà le sue caratteristiche ogni artista avrà le sue caratteristiche questo per dire semplicemente che è impossibile identificare il dadaismo come uno stile non è un fatto né tecnico né stilistico è un fatto proprio di intenti e infatti Zara insiste sul movente più che sull'opera e afferma la parola dada dimostra l'internazionalità del movimento che non è legata ad alcuna frontiera, religione o professione dada è l'espressione internazionale del nostro tempo la grande fronda dei movimenti artistici che assume forme diverse a seconda della contingenza e della necessità aggiungiamo noi a questo proposito ancora Ognè afferma così a Berlino l'attività di dada che si traduca in fotomontaggi stravaganti o in caricature accessibili porta sempre il sigillo di una forza amare e morbosa di un realismo decisamente orrido e di un erotismo brutale in quanto caricaturista, continua Gross resterà il pittore crudele del dopoguerra il terribile visionario della bruttura e della corruzione dell'oro e della fame, dell'oblio creato nei paradisi artificiali della fauna malsana, delle case d'appuntamento e dei locali notturni dove brulicano insieme omosessuali dei due sessi e banchieri d'ogni bancarotta ecco l'opera che vi mostro in questa slide fu presentata nel 19 alla mostra d'Adam Mess in cui si esposero 174 prodotti vengono proprio definiti prodotti nel catalogo della mostra di artisti internazionali, quindi non solo berlinesi e quindi si vede esporre Arp, si vede esporre Max Ernst, Picabia, Otto Dix che poi insieme a Gross diventerà uno dei protagonisti della Neue Saclicheit cioè della nuova oggettività legati diciamo tutti da una sorta di sentimento d'Ada cioè non è un fatto stilistico perché abbiamo visto che appunto Gross Gross lavora con la caricatura mentre invece altri artisti sono tendenzialmente più astratti oppure si occupano di fotomontaggio, di collage eccetera in questo dipinto di Gross sullo sfondo di una città che è evidentemente immersa nel caos nella distruzione trovano posto lo stereotipo del borghese nazionalista tedesco che è circondato dai simboli del lusso dei privilegiati ha un tavolo apparecchiato il sigaro, la bottiglia di birra, il giornale quotidiano che simboleggiano in qualche modo la bramosia il totale disinteresse delle classi privilegiate verso la catastrofe della nazione la catastrofe in atto alla faccia di chi muore di fame loro riescono a fare una vita normale diciamola così e non a caso il grasso borghese che non ha nessun rimorso nei confronti della povertà degli altri impugna la forchetta e il coltello avidamente di fronte a questo l'autopasto e c'è appunto un piatto di carne si vedono le ossa quindi proprio un piatto piuttosto corposo sotto di lui c'è la rappresentazione dei tre pilastri del potere dello stato la chiesa, l'esercito, la scuola apparentemente distaccati dal brulichio delle figure che affiorano da questa città decomposta e ricomposta alla maniera dei cubisti noi vediamo quindi comparire dalle macerie dalla ricomposizione della città il becchino, il marinaio, la cagna, la prostituta una caricatura amara che accomunerà come abbiamo detto grozza ai modi di 8dx insieme al quale diria poco abbandonata Dada diverrà protagonista della noiesaclicate quindi della nuova oggettività facendo uso appunto di questa forma più tradizionale del disegno espressionista in qualche modo è caricaturale ora giusto una rapida menzione a Dada Messe e alla sua rilevanza nel processo di critica violenta al sistema in atto a Berlino in questi anni Dada Messe era stata la più grande esposizione Dada di Berlino e come si nota dalla fotografia l'allestimento di questa mostra è assolutamente anarchico i manichini dialogano con gli spettatori le pareti sono letteralmente ricoperte di dipinti in una sorta di horror vacui ci sono dipinti ma ci sono anche collage fotomontaggi motti di spirito ci sono iscrizioni l'arte è morta oppure abbasso la morale borghese oppure dilettanti rivoltatevi contro l'arte Dada è politico tutte dichiarazioni di intenti che accompagnano le installazioni le poesie stampate in varie lingue le incisioni come si diceva una sorta di horror vacui che trova il suo culmine nel manichino appeso al soffitto che è una scultura di Erdfield e di Schlitter dal titolo l'arcangelo prussiano che in persona ha un militare con la testa di maiale in qualche modo una specie di previsione su quello che sarebbe successo la rimilitalizzazione della Germania che poi sarebbe sfociata nell'avvento del nazismo ma Dada berlinese proprio perché orientato all'obiettivo rivoluzionario quindi alla propaganda alla lotta politica si esprime in opere fondamentalmente effimere realizzate sul momento e realizzate soprattutto per il momento secondo l'estro della necessità e dell'occasione distrutte o perdute appena create ci ricorda ancora una volta Ogniè nella sua cronaca di questi anni sono quasi tutte scomparse per questo nei nostri manuali tendenzialmente si cita sempre la Germania perché è il luogo dove Dada si fa più politica e si fa più consistente come lotta diciamo verso la borghesia ma poi fondamentalmente ci si dedica ad opere di altri protagonisti che sono quelli hispano franco-americani pica bia de champ marre attivi in una situazione diversa che partono dagli Stati Uniti quindi una situazione più distaccata anche se una situazione non meno disillusa sui vizi del sistema capitalistico cioè non è che il Dada new yorkese o quello di Zurigo non fosse espressione di una volontà antiborghese però diciamo la situazione distaccata permette la produzione di opere molto interessanti di cui resta una serie di testimonianze più numerose perché fatte per durare rispetto al fotomontaggio al manifesto tedesco che serviva proprio sul momento quindi noi abbiamo tutta una serie di opere significative tangibili di artisti appunto come Duchamp soprattutto ma anche come Murray e come Piccabian rispetto agli artisti che abbiamo citato in Germania anche dell'attività tedesca però resta comunque più di una traccia nella sperimentazione fotografica soprattutto e nell'assemblaggio lo scrittore Welsenbeck torna abbiamo detto a Berlino nel 17 e trova da subito una sponda artistica in personaggi fondamentali come Helmut Herzfeld che poi fuggerà nelle Stati Uniti all'avvento del nazismo e anglicizzerà il suo nome in John Herfield che è il nome col quale è più noto al pubblico e farà questo atto proprio in segno di disprezzo per la deriva autoritaria della Germania del suo paese oppure come Raul Haussmann il quale molto significativamente avrebbe definito la combinazione di collage e fotomontaggio lo strumento più adatto per strappare un'immagine visivamente e concettualmente fedele di quel caotico periodo di guerra e di rivoluzione che si sviluppa tra la caduta dell'impero in Germania ovviamente la nascita alla fine della Repubblica di Weimar la guerra civile e il tentativo di rivoluzione spartachista soffocato nel sangue ecco proprio la compagna di Haussmann Anna Ock altro personaggio molto significativo del Dada berlinese ci ha lasciato uno dei massimi esempi dell'efficacia della potenza iconica di quest'arte sperimentale brutale diretta montando ritagli di giornali e frammenti fotografici tra significativi inserti tipografici quindi parole che vengono inserite all'interno del fotomontaggio in un grande collage fotografico che non è altro che la summa delle contraddizioni che attraversano la Germania negli anni 20 quindi da una parte la tecnologia ma dall'altra il capitalismo sfrenato e corrotto movimenti di massa tensioni politiche arretratezza militarismo culto dell'individuo che di lì a poco sarebbe sfociato nella presa di potere di Hitler che poi avrebbe portato alla seconda guerra mondiale il tutto condito da un'incredibile superficialità politica che avrebbe condotto appunto il paese per il suo tramite tutta Europa sull'orlo del nuovo baratro appunto della seconda guerra mondiale e allora il caos della figurazione realizzata da Anna Occa addirittura si vede la figura di Einstein in alto a sinistra pensoso come se riflettesse su questo caos rispetto al suo approccio scientifico diciamo alla storia e nello stesso tempo come in una specie di contraltare c'è però anche la fiducia in un mondo nuovo in quello della speranza nel progresso socialista nell'esaltazione dell'Unione Sovietica e nell'esaltazione dei protagonisti di questo mondo rivoluzionario sovietico dove gli artisti avevano avuto e avevano ancora un ruolo fondamentale perché la rivoluzione fa uso dell'arte soprattutto dei costruttivisti dei produttivisti per esaltare gli ideali della rivoluzione allora Raul Haussmann che era appunto il marito di Anna Occa si cimenta anch'esso con lo strumento del fotomontaggio ed esalta in Tatlin a casa che è il collage il fotomontaggio che vedete alla vostra sinistra la figura di questo grande artista architetto grafico costruttivista per l'appunto Tatlin il suo impegno in interrotto verso il trionfo della rivoluzione però in questo fotomontaggio Tatlin diventa un uomo dal cervello macchina un cervello esatto efficace instancabile però forse qui sembra affiorare il dubbio d'Ada di una nota critica neppure poi così tanto nascosta troppo freddo quasi disumanizzato privato della libertà di scelta e quindi della libertà di azione come sembra di leggere anche nell'assemblage che vedete alla vostra destra lo spirito del nostro tempo la testa meccanica realizzata dallo stesso artista nello stesso anno dove la testa di un manichino da parrucchieri viene equipaggiata con tutta una serie di ingranaggi strumenti di misurazione del tempo e dello spazio come a trasformare appunto l'uomo in un automa è soprattutto il fotomontaggio che è un'invenzione dei dadaisti tedeschi che risale proprio al 1919 a incarnare lo spirito del movimento in questa fase in primo luogo perché come abbiamo visto permette di combinare immagini diverse sommando situazioni personaggi linguaggi costruendo dei veri e propri simboli questa immagine di Adolf Hitler con una sbastica al posto del cuore con la spina dorsale fatta di una pila di monete esemplifica perfettamente la consapevolezza diciamo dell'egoismo militarista e nazionalista che la sinistra tedesca si era fatta del nazionalsocialismo avete anche altre due immagini anche quelle di John Hartfield la sbastica fatta di di asce sanguinanti e dall'altra parte Hitler che fa il saluto e che intanto intasca i soldi della grassa borghesia e poi anche come scelta programmatica di sperimentazione di nuovi linguaggi perché il fotomontaggio è qualcosa di completamente nuovo e quindi l'idea di Dada è il superamento diciamo di quei metodi artistici tradizionali accademici attraverso appunto linguaggi sperimentali sempre più arditi in grado di utilizzare nuovi ritrovati tecnici nel tentativo proprio di uscire dalle maglie strette della tradizione pittorico-scultorea delle accademie in generale appunto della tradizione artistica europea il fotomontaggio può essere inteso in prima istanza come una specie di papier collé però fatto con frammenti di stampe fotografiche diverse sovrapposte giustapposte poi in un secondo tempo andrà ulteriormente complicandosi attraverso la pratica di fotografare nuovamente l'insieme dei frammenti fotografici per creare dall'unione di oggetti di pezzetti diversi un nuovo originale diciamo quindi un prodotto un prodotto autonomo con un più spiccato potremmo dire valore artistico intrinseco all'opera stessa sul fatto che Dada incarni una volontà artistica più che una serie di pratiche tecniche e stilistiche i commenti dei critici negli anni si sono sprecati noi abbiamo già visto Zara che parlando di questa esperienza negli anni successivi alla guerra dichiarò si è avuto il torto di dire che il dadaismo il cubismo il futurismo riposavano su un fondo comune queste ultime due tendenze erano basate soprattutto su un principio di perfezionamento tecnico intellettuale mentre il dadaismo non si è mai fondato su alcuna teoria ed è stato soltanto protesta quindi la differenza tra cubismo e futurismo da una parte e il dadaismo dall'altra è che cubismo e futurismo hanno fondamentalmente una serie di elementi di innovazione tecnica e intellettuale Dada no Dada è solo il desiderio di mettere in discussione il mondo così come è strutturato chi governa il mondo e quindi la borghesia e quindi anche l'arte che è prodotta da questa borghesia George Steiner successivamente arriverà a sottolineare come sembra ormai probabile che tutta la corrente modernista fino al giorno d'oggi alla minima l'art all'happening ai fricks alla musica aleatoria costituisca una semplice nota a piedi pagina spesso mediocre e di seconda mano di Dada quindi l'azione artistica Dada non è affatto limitata al prodotto tangibile conservabile cioè non si tratta di creare degli oggetti delle opere d'arte Dada un personaggio pittoresco sconvolgente a suo modo come Johannes Bader che vedete in questa nella fotografia in questa slide che si faceva chiamare il Super Dada si definiva Super Dada architetto poeta scrittore ma soprattutto lo potremmo definire un performer oggi lo dimostra in modo inequivocabile ci sono tante storie che riguardano che riguardano Bader dal momento in cui Bader aderisce a Dada le sue azioni proprio la sua vita si sublima in una inattesa incontrollata opera d'arte totale una continua provocazione antisistema che anticipa l'idea stessa della performance come quando per esempio nella disattenzione generale ci racconta Ognè riesce a salire sul pulpito della cattedrale di Berlino durante una funzione religiosa e a declamare nello stupore generale un'orazione volta a dichiarare come Dada avrebbe salvato il mondo cioè durante la messa dal pulpito della cattedrale di Berlino ecco la provocazione antimilitarista degli anni berlinesi però non fu l'unica via tedesca al linguaggio Dada per esempio se andiamo a Colonia troviamo il duo Hans Arp e Max Ernst in realtà esistono anche altri artisti importanti a Colonia ma questi due protagonisti che poi soprattutto Ernst sarebbe diventato uno dei vertici della pittura surrealista declinò la spinta antisistema in modo molto più estetizzante meno compromesso dagli accadimenti politici meno direttamente impegnato nella politica privilegiando un linguaggio altrettanto violento le serate Dada di Colonia si concludono praticamente tutte con la distruzione delle installazioni perché erano ritenute oscene insopportabili da parte del pubblico e quindi c'era una sorta di rissa tra il pubblico e gli artisti che esponevano i loro prodotti ma comunque si tratta di un linguaggio più ironico più sottile più lirico meno diretto meno drammatico si tratta soprattutto dell'uso di immagini sognanti quasi ultraterrene addirittura a nonché di magico che già sembrano appunto preludere successivi sviluppi surrealisti questo dipinto questo frottage collage che si chiama verso la pubertà di Max Ernst è un'idea ci dà un'idea di questa commistione di immagini sognanti che ci lasciano pensare a qualcosa che va oltre la vita la vita terrena che appunto si richiama al sogno questa opera per esempio che vedete alla vostra destra anche questa di Max Ernst viene realizzata a Colonia durante il primo anno del movimento d'Ada in questa città appartiene a una serie di una cinquantina di opere databili tra il 19 e il 20 e che sono basate tutte su schemi e strumenti scientifici e in queste opere Max Ernst usa delle lastre tipografiche per produrre tutta una serie di immagini i caratteri impressi una volta alterati dai tradizionali effetti di colore modellato si collocano quindi a metà strada tra l'objet trouvet e l'opera d'arte come succede poi nei collage cioè la sensazione che si tratti di macchine di macchine trovate di cui non si capisce diciamo sì il funzionamento e che si compongono a costruire una nuova opera d'arte per soggetto e stile la serie può essere paragonata ai disegni ai dipinti meccanomorfici di Francis Picabia poi lo vedremo Picabia con cui Ernst condivide l'interesse per esempio per la tipografia le immagini a stampa e la lingua e infatti molti elementi di quest'opera vedete alla vostra destra si possono leggere come lettere lettere combinate fra loro capovolte che servono anche per descrivere una struttura meccanica una specie di macchina costruita di lettere una sorta di meccanica del linguaggio ecco il tentativo di annullare ogni valore produttivo attraverso una serie di aggregati detritici cioè oggetti apparentemente inutili associati in modo assurdo quanto enigmatico fra loro a breve ritroveremo questi aggregati di oggetti in Schwitters oppure attraverso l'invenzione di macchine altrettanto enigmatiche macchine che non servono a niente macchine inutili che poi vedremo in Ernst vediamo in Ernst in questo caso ma poi ritroveremo ancora più forza in Picabia negli Stati Uniti o attraverso i ready-made di Duchamp è tutto un sistema che mira a combattere l'idea della razionalità del prodotto meccanico affermandone il lato negativo la disumanizzazione quindi una specie di luddismo neoluddismo ironico per spezzare quella catena logica basata sulle coppie vero falso bello brutto utile e inutile quindi la macchina che serve a qualcosa è giusta è utile e bella in realtà io costruisco delle macchine che sono enigmatiche che non servono a niente sono pure opere d'arte o meglio di anti-arte e quindi esalto l'altro estremo della coppia il falso e il brutto l'inutile ecco nella precedente in questa slide che vedete abbiamo citato le aggregazioni detritiche di Kurt Schwitters che è l'ultima personalità della quale ci occupiamo in questa lezione Schwitters fu protagonista della stagione Dada di Hannover era stato escluso per motivi di polemica politica dal fermento berlinese cioè lui aveva chiesto di aderire a Dada berlinese ma non fu mai accettato Schwitters era di estrazione altoborghese non ebbe mai bisogno di lavorare per vivere e non rinnegò l'amicizia con alcuni personaggi altolocati del suo ambiente tra l'altro non aveva partecipato alla guerra in prima persona per un problema di epilessia quindi resta sempre distante dalla violenza materiale provata da altri protagonisti tedeschi di Dada sulla loro sulla propria pelle quindi in qualche modo viene considerato da questi altri artisti una specie di rivoluzionario di Serie B ora per comprendere il clima di sospetto e di intolleranza di questo periodo non solo dei rivoluzionari contro coloro che sono ritenuti troppo tiepidi ma in generale della destra contro la sinistra e viceversa dei vari nazionalisti nazionalismi nei confronti l'uno dell'altro basta ricordare come anche lo stesso Zara era stato inizialmente accolto con una certa freddezza a Parigi perché veniva considerato troppo filo tedesco e si sta parlando di Zara che aveva postulato l'internazionalità l'antinazionalismo come base di Dada eppure essendo in qualche modo compromesso con tutta una dialettica Dada in Germania in Francia viene considerato un po' troppo tedesco e guardato con un po' di sospetto d'altra parte sono gli anni dell'esecuzione della spia Matari o della ritenuta spia Matari sono gli anni della presenza scomoda di Lenin in giro per l'Europa cioè la situazione è una situazione estremamente difficile Schwitters viene respinto dall'ambiente Dada berlinese e allora si dà da solo la costruzione di un'alternativa che come vedremo poi assume caratteristiche molto interessanti lavorando a una sorta di raccolta compulsiva e all'assemblaggio dei più disparati materiali intesi proprio come frammenti come pezzetti di un mondo incomprensibile polverizzato dagli eventi dalla violenza e mette insieme di tutto dai biglietti del tram ai frammenti di fotografia ai chiodi pezzi di legno piume di gallina francobolli vetri rotti sassi frammenti di giornale c'è veramente di tutto l'idea che non è così lontana da quella di tante altre azioni dada poi se ci pensiamo è quella di decontestualizzare gli oggetti oggetti che erano stati compromessi dall'uso e dalla destinazione di una società corrotta perché facevano parte di quella società e quindi partecipavano della corruzione di quella società allora io che faccio lì decontestualizzo li metto fuori contesto e li reinvento come parti di una nuova figurazione vedete alla vostra destra lo psichiatra quindi questi pezzetti che servono a comporre con la correzione della pittura una figura nuova in questo caso una sorta di ritratto o più semplicemente restituendo a questi oggetti una nuova purezza in composizioni astratte tali operazioni scrive proprio Schwitters servono a togliere ai materiali il loro proprio veleno ossia potremmo aggiungere noi quello di essere prodotti nel sistema capitalistico l'abbiamo già detto il veleno di questi oggetti è il fatto di essere oggetti del capitalismo e allora io li depuro li pulisco utilizzandoli in maniera diversa queste composizioni prendono il nome di Mertz Builder Mertz Build al singolare le immagini Mertz dove la parola Mertz risulta proprio da un frammento della dicitura Commerz und private bank che era stata tratta da un pezzetto strappato di giornale utilizzato da Schwitters in un collage del 1919 e il termine Mertz che non significa nulla da questo momento assume un significato universale è un po' il corrispettivo dello stesso termine da Schwitters chiamerà Mertz tutte le sue composizioni tutti gli assemblaggi le poesie e addirittura darà questo nome a una rivista fonderà una rivista la chiamerà proprio Mertz nel 1921 scriverà su Der Ararat il mio scopo è l'opera d'arte totale Mertz che riassume tutti i generi in una unità artistica tanto che poi successivamente ci sarà anche chi ironicamente appunto parlerà di Gesamkunst Mertz anziché di Gesamkunstver opera d'arte totale no? ecco l'opera che con la quale concludiamo la nostra lezione è il cosiddetto Mertz-Baula costruzione Mertz che comincia ad essere realizzata costruita assemblata a partire dal 1923 ma che viene poi distrutta nel 43 sotto i bombardamenti si tratta di un assemblaggio polimaterico quella che vedete quelle che vedete sono due fotografie d'epoca è un'opera come abbiamo detto purtroppo è andata perduta sotto i bombardamenti del 43 ma non è altro che un'entità in divenire all'interno della stessa casa di Schwitters una specie di complesso complicatissimo di oggetti di forma in gesso e legno che vengono assemblate per creare nicchie dedicate ad artisti che per Schwitters venivano considerati imprescindibili tra i quali spiccano i nomi di Mondrian di Vandesburg ma anche di Hans Arp che vengono affiancati però ai più disparati oggetti della quotidianità quindi si tratta di una specie di proiezione fisica della vita degli interessi delle speranze dell'artista una proiezione che è fatta di immagini di ricordi di azioni di oggetti che riempiono lo spazio privato di Schwitters e lo trasformano ovviamente in uno spazio pubblico perché diventa qualcosa di diverso quindi opere d'arte composizione di oggetti che vengono assemblati in maniera quasi casuale che sono in grado di mescolare arte e quotidianità realizzando una delle prime autentiche installazioni ambientali della storia e si considera la fortuna che l'installazione come genere avrà nella seconda parte del secolo il ruolo che ancora oggi rivestono le installazioni della produzione artistica contemporanea ecco con questo artista si chiude in qualche modo il quadro molto rapidamente dell'esperienza tedesca nella prossima lezione ci sposteremo finalmente a New York dove Dada secondo tanta parte della critica era nata ancora prima di chiamarsi Dada quindi già a partire dal 13 anticipando anche l'esperienza di Zurigo a partire dal 13 di Zurigo a partire dal 13 Grazie a tutti